Ma mi chiedevo da tempo, i lavori di riqualificazione di piazza Nettuno, che fine hanno fatto? Sono finiti i soldi, hanno abbandonato il cantiere così, senza riqualificare la piazza, senza rimettere le ringhiere al suo posto? Tutto abbandonato, hanno smantellato tutto E' da mesi che non ci lavora nessuno Ma